L'idea è stata promossa da un'associazione di nuova formazione che raggruppa sportivi liberi cittadini che sentono l'esigenza di avere nel territorio un'infrastruttura di questo tipo Il collante è stato rappresentato dalla Fondazione Confeselfidi che ha messo a disposizione le proprie professionalità per realizzare una piattaforma di crowdfunding attraverso il quale i cittadini potranno dare il loro contributo per la realizzazione di questo progetto Il progetto sarà visibile nella piattaforma crowdfunding ed è stato realizzato dall'ufficio tecnico delle comune di Scicli Sarà visibile anche l'importo da raggiungere per la realizzazione dell'infrastruttura Un'infrastruttura che si collegherà ad un progetto di prossima realizzazione che ha visto la collaborazione del comune di Scicli con il comune di Ragusa e il libero consorzio per ottenere il finanziamento per la realizzazione di un tratto di pista ciclopedonale che congiungerà Marina di Ragusa a Playa Grande Quindi questo progetto di cui stiamo parlando oggi sarà il prolungamento di questa infrastruttura È un servizio secondo noi importante perché comunque mette in comunicazione due borgate La borgata di Playa Grande e la borgata di Donna Lucata strettamente connesse tra di loro La distanza è abbastanza ravvicinate perché comunque Donna Lucata rappresenta un polo di servizi nel territorio costiero L'idea parte da questo comitato spontaneo formato da liberi cittadini, associazioni sportive e associazioni per disabili L'idea appunto da un confronto con uno dei membri che ha lanciato l'idea di andare a collegarci con la piattaforma come strumento per realizzare la donazione, donazione che servirà per la realizzazione dell'infrastruttura Noi ringraziamo il comune di Scicli che ha subito accolto la nostra idea il quale avrà un ruolo fondamentale nella parte autorizzativa, nella parte progettuale e amministrativa Noi veramente vogliamo diffondere il messaggio non solo ai cittadini di Scicli ma anche a chi viene a vivere le vacanze a Donna Lucata perché questa infrastruttura sarà veramente utile prima di tutto per mettere in sicurezza un tratto di questa borgata ma poi sarà bello poter percorrere questo tratto di mare fino a Pleia Grande La donazione è molto semplice, ci si collega al sito www.fondazionecompeserfidi.com cliccando sul progetto ciclopedonale e cliccando sul tasto Dona Una libera donazione da parte di chiunque, cittadini e amanti di Donna Lucata